Galati, produttore di formaggi, sbarca così a Londra. Attraverso un intenso lavoro fatto in collaborazione, anche attraverso il marchio Mancia Comuparri, siamo riusciti a coinvolgere dei buyer. Galati oggi più che mai è una realtà capace di internazionalizzare, capace di proporre i propri prodotti all'estero e lo fa con una proposta chiara. Di fronte ad un prodotto così ben fatto, di fronte all'eccellenza della nostra terra, ecco che buyer sono disposti ad ascoltarci e ad accogliere i nostri prodotti in tutto il mondo. Pedane e pedane dei nostri formaggi, delle nostre mozzarella, incominceranno così da Londra ad essere trasferiti in giro per il mondo. Ecco, questa è la Sicilia che ce la può fare. Faremo rete, faremo un network tra questi imprenditori e ci rivolgiamo a tutti quelli che vogliono provare a raccontare le eccellenze del Born in Sicili. Il progetto di internazionalizzazione che ci ha finanziato la regione, che ci ha permesso di capire come funziona il mercato all'estero. Funziona che tu se vuoi lavorare paghi, se non vuoi lavorare non paghi. Per cui l'azienda cresce bene, al momento in cui riesce a vendere tutti i suoi prodotti incassando fino all'ultimo centesimo, significa che i guadagni arrivano tutti in azienda che ti permettono di investire sull'azienda, ti permettono di crescere l'azienda, ti permettono di dare nuove opportunità di lavoro, ti permette tutto. Quello che soffoca la nostra terra. La nostra terra non te lo permette questo. Perché non te lo permette? Perché se tu devi lavorare, qua si lavora con la condizione del credito, con un grosso punto interrogativo di incassare. Per cui parte dei nostri utili, parte dei nostri guadagni si perdono per strada. L'idea è fare delle organizzazioni intelligenti. Io la vedo così. Ho fatto l'anno scorso una cosa molto interessante, col consorzio di Piacenza. Ho fatto venire nel mio magazzino 12 produttori, ho chiamato tutti i miei clienti. Hanno assaggiato tutti i prodotti. Da quel momento ho preso 8 compagnie, 8 ditte, che mi danno dal pomodoro in scatola a una migliaia di altre cose, salumi, formaggi. È stata una cosa dove ho cercato i prodotti più ricercati e magari anche qualcosa di meno ricercato. Ho aiutato piccole realtà a portare fuori un loro prodotto. La fiera è importante, ma deve essere fatta con intelligenza. Io penso che l'unione faccia la forza. Dovreste sempre pensare così anche fra produttori. Quindi grazie a questa iniziativa e a questo progetto di internazionalizzazione stiamo riuscendo a poter partecipare a diverse fiere, tra cui Londra e poi ne faremo altre in America, quindi con l'obiettivo di poter portare le nostre eccellenze, i nostri prodotti di qualità, i cui criteri non vengono alterati e modificati geneticamente o chimicamente modificati, per poter portare al meglio i nostri prodotti tipici, le nostre eccellenze e quindi anche la nostra cultura, che si evince anche grazie alle nostre materie prime e il nostro know-how all'estero. Nasce il network di Mancia Comu Parre che va a Londra con Alex, all'Emporio, io sono l'Emporio, con Mr. L'Emporio dalla Sicilia. Mancia Comu Parre!